Ciao a tutti, sono Michael e sono un ex studente del Master Eidos in Consulenza Politica e Marketing Elettorale. Gli weekend sono stati per me fondamentali perché ho avuto la possibilità di conoscere docenti che sono solo tra i migliori professionisti della Consulenza Politica, ma anche giornalisti, conduttori televisivi, esperti di comunicazione, di ufficio stampa, insomma, che mi hanno dato una formazione a 360 gradi della materia e è una formazione che mi è servita tantissimo poi nei tre mesi di stage e nell'esperienza poi che ho fatto al fianco di un senatore e sottosegretario del Ministero degli Esteri per un anno, un anno e mezzo, esperienze in cui mi sono occupato di comunicazione ma anche di strategia politica e ho lavorato soprattutto sulla figura del sottosegretario. Si tratta sicuramente di un percorso che richiede tanto impegno e tanta dedizione, ma il Master Eidos è sicuramente il modo migliore per iniziare.